Ciao ragazzi, benvenuti alla quarta puntata del format dedicato alla ristrutturazione di una casa anni 60. In questo episodio vi parlerò di fognature. Vedrete come è fatta la fognatura di questa casa e come funziona e risponderò ad alcune domande sull'argomento. È un argomento un po' tecnico, però ce l'ho messa tutta per renderlo semplice. Quindi lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo! Innanzitutto, a cosa serve una fognatura? La fognatura domestica è composta da una rete di tubi ed altri componenti che servono a smaltire e in parte a trattare le acque reflue e pluviali, dalla nostra abitazione fino all'immissione nella pubblica rete fognaria. Le acque reflue sono quelle prodotte dall'attività umana nell'abitazione e provengono dall'uso del bagno, della cucina e della lavanderia, mentre le acque pluviali o meteoriche sono quelle della pioggia. Questa è la prima distinzione, poi c'è un'altra classificazione che si riferisce ai colori delle acque e sto parlando delle acque nere e delle acque bianche. Le acque nere contengono dei rifiuti prodotti da alcune attività umane e comprendono quelle di wc, bidet, lavabo, docce e vasche, ma comprendono anche le acque della cucina e della lavanderia, mentre le acque bianche, almeno in teoria, non dovrebbero essere nocive per la nostra salute ed è per questo che ricevono un trattamento diverso, come tra poco vedrete. Quando ristrutturate un appartamento dentro un condominio non dovete preoccuparvi della fognatura, perché durante il rifacimento dell'impianto idrico sanitario vi allacciate alla colonna o alle colonne di scarico del condominio, che sono già collegate alla fognatura del palazzo che poi si allaccia a quella pubblica in strada. Se invece ristrutturate una casa singola, come in questo caso, l'intera fognatura va rifatta e magari riprogettata in base alle nuove esigenze. Per capire che cosa intendo per progettazione vi faccio vedere com'è strutturata la fognatura della casa protagonista del format. Questa è la pianta del piano terra, cortile compreso. So che messa così sembra un casino, ma non preoccupatevi perché la racconterò passo per passo, nel modo più semplice possibile. Primo step. Le acque entrano negli scarichi. Quando le acque di bagno, cucina e lavanderia entrano negli scarichi, iniziano un percorso che le porta fino all'esterno della casa. In particolare, in questa abitazione, il tubo della cucina e quello della lavanderia si collegano in questo punto. quello del bagno è separato e segue un percorso a parte. Questo tubo più grande è proprio lo scarico del bagno, che dal bagno passa in cucina, affiancato dal tubo più piccolo che porta le acque di cucina e lavanderia. Poi i tubi sempre affiancati tagliano in due l'abitazione, perché attraversano l'ingresso e il soggiorno, e infine arrivano fino all'esterno, sbucando sul muro perimetrale della casa. Secondo step. Cosa accade alle acque del bagno? Le acque dello scarico del bagno entrano subito in questo tubo arancione fatto di PVC e iniziano il lungo percorso che le porterà fino a questo punto, che ho segnato in verde. Tra poco vedremo di che cosa si tratta. Durante il percorso, l'acqua attraversa delle stazioni intermedie, ovvero i pozzetti di ispezione, così chiamati perché potete aprirli per eseguire le operazioni di controllo e manutenzione, come in questo caso dove è possibile svitare il tappo del tubo che ha messo all'interno. Questo ad esempio è un pozzetto chiamato di deviazione o d'angolo, perché in questo punto il tubo con l'acqua fa una curva e cambia direzione, ma ci sono anche altri pozzetti, come questo, che è un pozzetto di confluenza, perché confluiscono due tubature. Terzo step, cosa accade alle acque di cucina e lavanderia? Le acque di cucina e lavanderia, a differenza di quelle del bagno, come prima cosa finiscono in questo contenitore interrato fatto di cemento vibrato, che si chiama condensa grassi o degrassatore. Vi chiedo scusa perché questa volta sono arrivato tardi in cantiere e il tubo era già stato coperto, ma come potete immaginare si trova lì sotto. In questa vasca avviene un pretrattamento delle acque, perché il compito della condensa grassi è trattenere il più possibile grasso, olio e sapone, per separarli dalle acque che invece devono continuare il loro percorso nella fogna, perché grasso, olio e sapone, a lungo andare, possono struire i tubi. Il degrassatore funziona secondo un principio fisico. Le sostanze pesanti rimangono sul fondo, mentre quelle leggere, come oli, grassi e sapone indurito, galleggiano in superficie. L'acqua pretrattata continua invece il suo percorso e fuoriesce dalla vasca. In questo caso si è usato un condensa grassi in cemento vibrato, ma esistono anche delle vasche fatte con materiali plastici. Quarto step, andiamo nel depuratore. Dopo l'uscita dalla condensa grassi, le acque di cucina e lavanderia arrivano in questo pozzetto di confluenza, dove si uniscono a quelle del bagno. Da qui continuano insieme il loro percorso fino a raggiungere il punto che ho segnato in verde. In questo punto c'è un impianto a fanghi attivi, ovviamente interrato, che come vedete è un grande contenitore fatto di polietilene. Non entro nello specifico del funzionamento del depuratore, ma in sostanza il compito di questa vasca è pulire ulteriormente le acque. Il problema è che le acque reflue delle nostre abitazioni sono molto inquinanti, a causa di alcuni elementi chimici contenuti, e se le sostanze delle acque non vengono trattate correttamente possono danneggiare l'ambiente. Per questo, prima dell'allaccio alla rete pubblica, interviene il depuratore che è talmente efficiente che l'acqua ripulita potrebbe essere scaricata in un fossato aperto, anziché nella fognatura pubblica, perché l'acqua depurata ha un carico inquinante molto basso che rientra nei limiti stabiliti dalla normativa. Quinto step, dove sono le acque bianche? Dopo il passaggio nel depuratore, l'acqua continua il suo percorso e arriva a questo pozzetto di confluenza dove incontra un altro tubo. Quel tubo parte sempre dal retro della casa e trasporta le acque bianche delle piogge in arrivo dalle grondaglie e dai pluviali. Questo tubo raccoglie le acque piovane e le fa defluire fino al pozzetto di confluenza dove incontra le acque di bagno, cucina e lavanderia, che sono appena uscite dal depuratore. All'interno del tubo delle acque piovane confluisce anche l'acqua di condensa dello split del condizionatore, che in questo caso è posizionato in soggiorno. Come vedete c'è il tubo azzurro della condensa che esce all'esterno e si allaccia a quello arancione dei pluviali. Sesto ed ultimo step, la valvola antireflusso. A questo punto le acque vanno avanti e fanno un ultimo passaggio prima dell'allaccio in strada. Vanno a finire in questo pozzetto dove c'è uno strano oggetto in materiale plastico, che è una valvola antireflusso. La valvola permette lo scorrimento dell'acqua a valle, quindi verso la rete fognaria pubblica, ma una volta passata l'acqua non potrà tornare indietro. Quindi, qualora ci fossero dei sovraccarichi nella rete pubblica, il ritorno dell'acqua sarà impedito dalla valvola, che tra l'altro impedisce anche l'entrata ai topi. In sostanza, questo è il percorso dell'acqua all'interno della rete fognaria domestica, nel caso di questa abitazione. Una cosa che non ho specificato è che la fogna della casa, oltre a ricevere le acque del piano terra, ovviamente riceve anche quelle in arrivo dal bagno al primo piano, acque che scendono tramite la colonna di scarico e si uniscono a quelle del bagno al pian terreno. Se avete seguito il format, forse vi ricorderete che in origine il cortile era ricoperto da piastrelle in cemento e ghiaia. Per permettere la posa della rete fognaria, l'impresa ha demolito queste piastrelle, ha sbancato il terreno e infine ha realizzato gli scavi secondo le necessità. Una volta posati tutti gli elementi della rete, quindi pozzetti, tubi, sifoni e così via, si è passati alla sistemazione dei tombini e delle caditoie. I tombini sono stati messi in corrispondenza dei pozzetti di ispezione, mentre le caditoie sono sugli angoli, accanto ai pluviali che ricevono le acque delle grondaie. Adesso rispondo ad alcuni quesiti che ho ricevuto sull'argomento. Come è fatta una fognatura domestica a norma? Non è possibile dare una risposta univoca perché ogni comune ha le sue regole sul trattamento delle acque refue. Bisogna vedere come è fatta la fognatura pubblica e l'impianto di depurazione del comune. Potremmo avere una fognatura pubblica separata, dove le acque nere e bianche scorrono in tubi diversi, come anche una fognatura mista, dove c'è un solo canale per le acque nere e le acque bianche. È per questo che quando si ristruttura casa bisogna contattare l'ente che gestisce la rete fognaria pubblica e lente dal suo parere preventivo sul progetto della rete domestica. Se poi sono pignoli come dovrebbero, avviene anche un sopralluogo in cantiere prima della concessione allo scarico nella fognatura pubblica. Quali materiali si usano per la fognatura domestica? Se parliamo di tubi esterni interrati, come avete visto, il materiale usato è il PVC. In genere, sulle reti moderne domestiche si usano molto i materiali plastici, che hanno un'ottima resistenza agli agenti chimici e sono piuttosto flessibili, quindi si lasciano lavorare con facilità. Le materie plastiche ormai si usano anche per altri componenti, come ad esempio la condensa grassi e il depuratore. Cosa fare quando la casa non è lacciata alla fognatura pubblica? In questi casi dovete contattare l'ente che gestisce la fognatura pubblica. In base alle regole saprete come agire e questo vale anche per le situazioni dove volete sapere se potete scaricare direttamente nella fognatura, anziché fare dei passaggi intermedi. Prima dei saluti voglio dirvi due cose. La prima, se dovete ristrutturare casa, guardatevi le altre puntate di questa serie, dove racconto la trasformazione di questa abitazione degli anni 60. Ho già parlato del progetto, del soffitto radiante, oggi della fognatura, ma parlerò anche di cappotto esterno, fotovoltaico e come avevo promesso a breve ci sarà una puntata sul super bonus, ma sarà una cosa fatta un po' a modo mio e diversa da quello che trovate in giro su YouTube in questo momento. Seconda cosa, se avete domande lasciate un commento e iscrivetevi al canale attivando le notifiche, così riceverete gli avvisi di tutte le prossime puntate. Ringrazio i ragazzi di Armonie, che è l'impresa che gestisce il cantiere. Se dovete ristrutturare Casa Padova o nella provincia di Padova, potete contattare Armonie e in descrizione trovate i loro riferimenti. Ho provato a raccontare in modo semplice un argomento abbastanza complesso. Spero di essermi spiegato e di non avervi annoiato. Ci vediamo alla prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!